Gli argomenti sono quelli che fanno parte del nostro programma ormai discusso e dibattuto insieme ai cittadini d'Avezzano da oltre quattro mesi. Abbiamo avuto in questi confronti molti spunti interessanti che poi sono stati importanti per apportare i dovuti aggiustamenti al programma stesso. Abbiamo incontrato tantissima gente, più di 5.000 persone direttamente e personalmente. È stata una campagna elettorale molto bella, ancorché dura, che mi ha veramente soddisfatto molto, anche a livello personale. E' convinto di un recupero? Certo, il recupero, siamo assolutamente convinti di un recupero, perché il ballottaggio è una partita che inizia sempre da 1-0-0. Quindi abbiamo la coalizione, i sostenitori, tutti quanti i candidati che sono molto entusiasti e che stanno lavorando tantissimo. Quindi Avezzano, fra l'altro, ci sta rispondendo con grande entusiasmo. Io sono molto fiducioso. Quale sarebbe la differenza tra lei sindaco e di Pangrazio Sindaco? Ma noi avremmo sicuramente molto più attenzione ad alcuni temi come il lavoro, l'occupazione, il recupero, la riqualificazione del centro storico e soprattutto una forte riduzione di spese inutili all'interno del Consiglio Comunale per poter riportare maggiori investimenti all'interno di questa città. Noi da molti anni viaggiamo con un importo riservato al piano delle opere non superiore a 1.100.000 o 1.200.000. mentre sprechiamo tanti altri soldi in staff eccessivamente costosi, convenzioni inutili come quelle dell'Arza, le sale del Principe del Torlonia sottoscritta con la regione che costa circa 180.000 euro l'anno. Insomma c'è da riorganizzare il comune, farlo diventare meno polveroso e molto più vicino a un'azienda funzionante ed efficace. La famiglia di Pancrazio ormai sono 30 anni che fa politica, quindi noi vogliamo portare in questa città un'assoluta novità fatta da un candidato che non si è mai impegnato in politica se non come tecnico e come amministratore e con una coalizione che ha prodotto poi un Consiglio Comunale fatto di 14 membri assolutamente qualificati di cui 8 sono completamente nuovi, di prima nomina e di questi 8 4 sono donne e fra l'altro tantissimi giovani. Ci siamo detti tutto con i cittadini di Avezzano in questi 4 mesi e penso che i cittadini di Avezzano abbiano bene in mente come stanno le cose. Allora se lo devono soltanto scegliere tra un sistema politico consolidato e familistico oppure voltare pagina e iniziare un cammino completamente nuovo. Sta a loro, qualsiasi cosa dovessero decidere è sempre da rispettare ovviamente. Ecco, altro tema importante però è l'astensionismo, questo è un po' l'incognita che potrebbe avvantaggiare l'uno o l'altro dei competitor. Sì, infatti è fondamentale che tutti vadano a votare. Fate un sacrificio, l'ultimo sacrificio manca un centimetro ancora per raggiungere almeno a noi il traguardo. È importante, lo dobbiamo fare per la nostra città, per Avezzano, per il futuro dei nostri figli. È importante che tutti quanti andiate a votare. Nessun apparentamento è stato portato a termine però è chiaro che lei si appella anche a chi nel primo turno ha votato gli altri candidati sindaci che adesso sono usciti di scena. Ma certamente perché gli altri candidati che fra l'altro sono stati assolutamente coerenti e di questo gliene va dato merito erano tutte quante proposte alternative quindi ideologicamente come principio che ha ispirato la loro campagna elettorale molto più vicina a noi. Io confido molto in questi elettori che hanno espresso gradimento al primo turno alle altre coalizioni affinché ci diano forza per poter cambiare e voltare pagina. Anche se non sono stati loro a fare questa avventura ma noi abbiamo ricepito parti importanti dei loro programmi. Già dall'inizio c'è una condivisione larga su tanti punti. Torni del Movimento 5 Stelle ho visto che c'è stato un invito a votare scheda bianca. Io spero che qualche loro elettore in coscienza dia una mano a noi per cambiare questa città.